Il Presidente USA Donald Trump and Cancelletto 8.217. Scattato alla mezzanotte ora di Washington. Le 6 in Italia. Il temuto and Cancelletto 8.216. Shadown and Cancelletto 8.217. Ovvero la chiusura di tutte le attivite non essenziali degli uffici amministrativi federali negli Stati Uniti. In seguito al voto al Senato contro il provvedimento per finanziare il bilancio di governo. In una corsa contro il tempo si sono tentati negoziati in aula che non hanno tuttavia portato ad alcun accordo prima della scadenza fissata. La Casa Bianca, nella prima reazione allo shadown, punta il dito contro i democratici. La portavoce Sara Sanders in un comunicato sottolinea. And Cancelletto 8.220. Non negozieremo lo status di cittadini illegali mentre i democratici tengono i nostri cittadini ostaggio di richieste incoscienti. And Cancelletto 8.221. E continua. And Cancelletto 8.220. Questo è And Cancelletto 8.217. Comportamento da ostruzionisti, non da legislatori And Cancelletto 8.221. I democratici infatti avevano posto come condizione per l'And Cancelletto 8.221. Approvazione e la conferma delle tutele per i Dreamers. I giovani immigrati portati negli stati unti da piccoli da genitori clandestini. A un anno dal suo insediamento. Donald Trump And Cancelletto 8.220. Festeggia And Cancelletto 8.221. Dunque nel peggiore dei modi la ricorrenza. Era dal 2013 che questo non accadeva. Quando dur 16 giorni e 850. 000 dipendenti pubblici rimasero. Temporaneamente. Senza stipendio. Lo shutdown prevede infatti la messa in congedo forzato dei dipendenti pubblici a partire da quelli meno essenziali come ad esempio quelli che lavorano negli uffici per il rilascio dei passaporti. I militari, considerati essenziali, restano in servizio durante lo shutdown ma non vengono pagati. Anche se impegnati in operazioni di guerra. I parlamentari continuano invece a ricevere lo stipendio.